Subito dopo la conclusione dell'Isola dei Famosi, con Marco Mazzoli emergente come il vincitore, Hilary Blasi ha scelto di prendersi un periodo di pausa. Si è separata dai suoi figli e ha deciso di lasciare l'Italia per un po'. Con Chanel, Christian e Isabel che vivono momenti indimenticabili in America, spostandosi tra Hollywood e Las Vegas con il loro padre, Francesco Totti e la sua compagna Noemi Bocchi, la nota conduttrice Mediaset ha sorpreso tutti con la sua partenza solitaria e misteriosa. Pertanto, ci poniamo una domanda fondamentale, dove si sta dirigendo Hilary Blasi per le sue vacanze? Conosciuta per la sua predilezione per destinazioni remote esotiche, lontane dalla morsa dei paparazzi e dal peso dello scrutinio pubblico, Hilary potrebbe aver scelto un luogo simile per la sua fuga. Mentre i nuovi programmi Mediaset stanno lentamente prendendo forma, con l'anticipazione di programmi confermati, nuovi conduttori e novità per la prossima stagione, l'attenzione rivolta a Hilary è ad un livello record. Il dibattito si intensifica, soprattutto in seguito alla notizia della rottura tra Barbara D'Urso e Pomeriggio 5, ponendo la domanda, cosa riserverà il futuro per Hilary Blasi? Sarà ancora alla guida dell'Isola dei Famosi? Molti dubitano, e sembra che Hilary abbia deciso di volare lontano per riposare e riflettere. La sua destinazione è il Brasile, più specificamente, la vivace Rio de Janeiro. Tuttavia, i fan sono pieni di domande, è sola o è in compagnia del suo compagno, Bastian Müller. Le voci di una crisi tra i due sono in circolo, ma entrambi rimangono silenziosi sulla questione. Forse presto avremo un selfie di Hilary e Bastian che metterà a tacere le voci. Non ci resta che attendere.